Quello che noi viviamo è sia in ambito economico che lavorativo che sentimentale il riflesso di quello che viene chiamato risentito dei genitori cioè quello che accadde a loro in modo particolare nei 18 mesi che hanno preceduto la nostra nascita e nei 18 mesi successivi ma ci si può anche ovviamente allungare però non è di questo specifico periodo quello che voglio spiegare, raccontare si riferisce a ben altro Ehi fermati un attimo, questo video è offerto dal tuo cappellone preferito ho deciso di regalarti ben due ore del mio videocorso come leggere la matrice migliora quindi la tua situazione economica, sblocca la tua situazione lavorativa e sentimentale e clicca quindi sul link in descrizione fabionezzac.net e guardati ben due ore del mio videocorso gratuito questo messaggio non ti è arrivato a caso in pratica noi dobbiamo guardare a come nostra madre si è sentita a come l'hanno eventualmente umiliata in certi casi come ha vissuto il rapporto tra lei stessa e il proprio partner e con i propri genitori ed eventualmente con la famiglia e sociale e quant'altro perché la mamma, quello che ha vissuto lei in prima persona sarà quello che noi vivremo nel futuro ossia quello che accadde a lei ancora prima della nostra nascita al di là dei 18 mesi che ho nominato e anche quello che accadde persino durante la nostra adolescenza se non addirittura anche oltre anche oltre i 20 anni, anche oltre i 30 anni perché la mamma si dice che è proprio l'elemento numero uno per creare uno specchio con eventuali difficoltà cos'è lo specchio? È la realtà di tutti i giorni se ti trovi in una condizione dove vedi che fai fatica ad avviare un progetto fai fatica a realizzarti sentimentalmente parlando la mamma dà un imprinting importante ma andiamo nei dettagli a livello simbolico la mamma è associata al fuoco al focolare per essere precisi il focolare è appunto un'energia che solo lei ha tra le mani però questo focolare non è sempre attivo allora ci sono varie situazioni uno, la mamma vive un lutto e questa mamma si sente trascinata nell'altra dimensione perché è inconsciamente alla ricerca della persona cara che ha perso ma non è di questo che io voglio parlare io voglio parlare di altre cose cioè del tipo il tuo papà come l'ha trattata? vuoi davanti a te? vuoi prima ancora che tu nascessi? perché ogni ferita che lei ha ricevuto come donna è un secchio d'acqua che lentamente, lentamente va spegnendo quell'energia del focolare e quando quell'energia del focolare è praticamente assente per te discendente o per i propri discendenti tuoi succede un qualcosa che è un po' pesante prima di tutto diminuisce per i discendenti di questa mamma la capacità di progettare cose nuove per la vita in ambito, dicevo, economico in ambito lavorativo in ambito sentimentale manca il fuoco manca il fuoco della passione quindi potresti trovarti in una situazione dove non hai neanche la soddisfazione nel lavoro che svolgi tutto perché si è spenta quell'energia del focolare l'energia del focolare non è solo le carezze che ti dava la mamma quello lo va ad attivare ma ogni volta, ripeto che qualcuno gli ha lanciato una secchiata sopra lei si è spenta come immagine a livello inconscio che tu hai ma non un'immagine quella che tu puoi aver visto quella che tu puoi aver percepito perché esiste la comunicazione non verbale una mamma triste che guarda sempre verso il basso quello è già sufficiente per dire il focolare è in crisi poi aumenta la predisposizione per esempio agli aborti aborti in tutti i sensi aborti nel senso triste di bambini feti abortiti spontaneamente o anche volontariamente ma soprattutto spontaneamente oppure si fa fatica ad avere i figli cioè una mamma trattata male in tutte le salse dal genitori a chiunque è una mamma che genererà figli che faranno fatica a generare nuovi figli e faranno fatica a creare nuovi progetti è un continuo abortire idee che poi però non vengono partorite nel vero senso della parola matrimoni che non si compiono possiamo parlare anche di semplice convivenza non è che dobbiamo arrivare per forza al matrimonio basta una convivenza in un appartamento per definirla unione ma c'è una maggiore predisposizione con una mamma col focolare spento si diceva in senso simbolico a quella che è la separazione o una vita addirittura da single guardate che queste cose che io vi spiego chi mi conosce perdonate sapete se a volte io mi ripeto su certe cose però c'è gente nuova e le devo dire dopo più di novemila incontri mi sono fatto ormai un'idea e lo schema è sempre quello è io la chiamo giocare a scacchi non so giocare a scacchi precisiamo so giocare a dama ma non a scacchi giocavo a dama con mia nonna è come giocare a scacchi con la genealogia se accade questo più questo più quest'altro questo è il risultato oppure mancando il fuoco della passione perché questo quello che passa invece di colpire tra virgolette a livello sentimentale i discendenti può prendere la vista ora io non sto parlando di questioni mediche me la vedrei io sto parlando di una predisposizione di meccanismi che ho visto e rivisto migliaia di volte migliaia magari no sto esagerando però centinaia sì questo è sicurissimo anche perché se non l'ho visto nella persona con cui ho avuto una sessione potrei averlo visto nella mamma di questa persona o nel papà insomma in qualcuno che ha avuto una mamma che ha sofferto poi per esempio se ti riguarda questa cosa e senti che è tua forse anche solo in parte ricordati che è preferibile se vuoi aprire un'attività avere un'attività non avere soci piuttosto cerca altre forme ma non soci perché quello che è stato l'elemento numero uno della mamma che è l'energia del focolare quando è stato spento praticamente coinvolge anche la sfera dell'amministrazione e di tante altre cose di una ditta per esempio infatti aumentano le predisposizioni a avere progetti aziendali che vengono abortiti come si diceva perché c'è proprio una similitudine in tutto questo tra una coppia di coniugi e un rapporto societario in numerologia ci sono dei principi numerologici che vedono le due cose uguali vi voglio dare un accenno nella bagua questo strumento che io utilizzo spesso del feng shui questa suddivisione in sé c'è un settore che è associato alla mamma alla moglie ma anche alla nonna talvolta diciamo che la nonna non tanto però ecco più che altro la mamma la moglie cosa succede è che quel settore però a seconda di come è strutturato in casa quindi a seconda del tipo di arredamento che ci sta e vi dicendo e stiamo parlando del numero 2 in numerologia come settore della casa quel settore influenzerà anche il rapporto di coppia quindi esiste proprio una similitudine tra le due cose quindi non è solo una dinamica che si riversa sul rapporto tuo di coppia ma anche sul rapporto società amicizie e vi dicendo potrebbero esserci problemi a livello di amministrazione perché pensate che quella che è la parte più importante a livello inconscio di un'azienda lo dice bene Bert Hellinger è l'amministrazione e l'amministrazione a chi è associata principalmente alla mamma quindi potrebbero esserci problemi tra soci nella spartizione anche di denaro non imbrogli non parlo di quello ma di questioni legate al denaro a volte pensiamo che sia l'accusa diretta a spegnere questo fuoco della mamma e quindi tutto quello che ne segue per te per i tuoi figli e vi dicendo no a volte è il comportamento di tuo padre quello da guardare perché se un padre è distratto con le partite di calcio nulla togliendo agli appassionati però ha altri interessi oppure vedi che non c'è quella profonda empatia con tua mamma chi viene accusata prima di tutto tua mamma perché non è riuscita da plasmare l'energia del focolare per l'appunto quindi il calore tra coniugi con i figli e vi dicendo e a quel punto tutto quello che io ho detto è la stessa cosa si combina uguale cioè tu ci rimetti alla pari altro esempio invece è la mamma quando si autoaccusa quante volte noi stessi abbassiamo la nostra stima di noi attraverso azioni che non dovremo compiere lasciandoci andare ad umiliazioni tutte queste cose questi pensieri che tua mamma può aver avuto per esempio possono diventare sempre un programma di predisposizione per te alla separazione difficoltà nella coppia problemi di avere figli insomma tutto quello che ho detto sinora anche se è un problema psicologico chiamiamolo così non fa parte del mio lavoro però diamogli questa etichetta di tua mamma una depressione per esempio di tua mamma viene vista come una secchiata d'acqua sopra di nuovo e una depressione non accade mai a caso a questo punto dando per scontato che un po' di questo c'è in tutti noi quindi rispetto a nostra madre cosa possiamo fare? io ho un bel rituale che può aiutarvi a sistemare questa cosa dovrete impegnarvi per almeno 18 giorni 18 è un numero associato alla mamma tante cose tante cose sappiate che sta per partire l'accademia partiremo con la numerologia quindi avremo modo di parlare di numeri la prima cosa che dovrete fare è disegnare in modo proprio artigianale un cerchio giallo esattamente come questo che adesso vi metto in sovraimpressione come vedete è un disegno piuttosto artigianale è stato fatto a computer ok però voi potete farlo tranquillamente con una penarello con quello che avete però possibilmente giallo vanno bene altri colori evitiamo il nero per cortesia però se proprio non avete altri colori usatene altri è vietato il verde mi raccomando ecco questo ve lo dovevo dire e anche il blu quindi forse sto restringendo un po' tanto il campo tentiamo con il giallo va prendete questo foglio lo posate sul tavolo dopodiché prendete altri strumenti importanti che abbiamo visto in altre occasioni che sono un piattino con i classici da caffè deve essere in materiale terra non può essere né di plastica né di vetro ci mettete qui sopra delle gocce di miele il classico rituale che vi faccio fare poi prendete una candela bianca mi raccomando voi potreste dirmi ma ce l'ho rosa rosa non va bene stimola la dipendenza con la mamma in questo tipo di rituale attenzione e altri colori insomma sono sconsigliati quindi bianca tanto sono quelle che si trovano in giro di più anche al supermercato per dire prenderete un post-it giallo e ce lo metterete sopra anche il miele tranquillamente qui di fianco con la candela qui sopra ora io vi faccio vedere un'immagine in sovraimpressione di quello che è più o meno quello che vi ho appena spiegato non serve che scrivete o incidete voglio dire parole sulla cera non serve poi altra cosa importante e adesso vi dico cosa scrivere sul post-it giallo è di prendere una foto può essere tranquillamente una fotocopia di vostra mamma grande tipo una foto tessera questa l'ho presa da internet quindi non pensate che siano pareti miei quelli che faccio vedere però ecco questa l'ho presa da internet grande più o meno ripeto come una foto tessera voi cosa dovrete fare dovrete posarla come vi sto facendo vedere quindi miele ripeto post-it candela immagine di vostra madre magari in piedi sarebbe meglio come postura il tutto dentro al cerchio ora vi chiederete ma cosa devo scrivere su quel post-it intanto dico una cosa prima di dimenticarmi perché conosco le domande che fine devo far fare a quel post-it a quella foto o quante volte devo scrivere o riscrivere quel post-it basta una volta per 18 giorni a meno che non si rovini proprio del tutto o si bruci ma in quel caso ok rifallo ma è un caso un po' straordinario non è che accade tutti i giorni e una goccina di miele sopra non è un gran problema anzi tutt'altro quindi alla fine gli cestini li metti via nel bidone della carta è finita lì mi raccomando di non fare tutto questo vicino a fonti d'acqua adesso vi dico il testo non preoccupatevi né a immagini di colore blu tipo una parete blu né davanti a uno specchio per cortesia non davanti a specchi al massimo li coprite se proprio ci tenete diciamo un'area neutra da acqua questo è importante poi evitate di accendere la candela proprio mentre qualcuno sta scaricando l'acqua del water o sta lavando i piatti e nemmeno il suono di acqua tipo un fiume o di qualcos'altro per una questione legata agli elementi già ne ho parlato più volte però è importante ripeterlo non solo per i nuovi allora la frase ve la metto in sovraimpressione ed è la seguente grazie mamma di avermi permesso di riconoscere in me l'energia del femminino è una frase semplicissima ma vi assicuro dall'esperienza che dice tutto tutto quello che serve tra l'altro non dovete scrivere niente dietro la foto di vostra madre lasciate così una fotocopia va benissimo ripeto questo rituale tra l'altro potreste farlo anche per le nonne insomma anche per voi stessi a dirla tutta magari evitate il post it tanto la geometria gli elementi che vi stanno sono più che sufficienti e ricordo per 18 giorni quindi vuol dire una candela al giorno poi se vuoi accendere di più ben venga una al giorno per 18 giorni bene ricordo a tutti che in descrizione ci sono dei link importantissimi e uno di questi ti permette di entrare in contatto con me per un incontro privato una sessione privata cliccando su questo link si apre una pagina del sito all'interno del quale ci sono due moduli compilate solo il primo perché il secondo la chiaroveggenza sta avendo delle trasformazioni quindi è tutto in fase di cambiamento il primo modulo da compilare vi permetterà una volta appunto compilato di avere informazioni da parte di una mia collaboratrice per un incontro detto di sblocco io all'inizio dell'incontro ti chiederò qual è il tuo obiettivo di carattere economico lavorativo sentimentale rapporto con gli altri con i figli insomma mi dirai tu qual è il tuo obiettivo poi io ti andrò a fare una lettura e ti dirò cosa fare per sbloccare la situazione quindi ti prendo per mano e con un percorso ti do una mano a venire fuori da una situazione magari un po' difficile e che magari sta durando da un po' troppo tempo bene io ti ringrazio tantissimo di essere arrivato fino alla fine di questo video un grandissimo abbraccio dal vostro fabionezzac punto net per sbloccare per sbloccare per sbloccare per sbloccare